Approvato dall'Aggiunta regionale su proposta dell'assessore alle infrastrutture Luca Braia, il programma annuale antincendio boschivo per l'anno 2013. Il piano prevede diverse misure e azioni per fronteggiare la lotta agli incendi. Saranno stipulate convenzioni con i vigili del fuoco e le associazioni di volontariato. Ai vigili del fuoco è affidato il compito di direzione delle operazioni di spegnimento degli incendi boschivi che minacciano abitazioni, manufatti, vie di comunicazione e infrastrutture. Saranno attivati quattro presidi straordinari a Melfi, Maratea, Metapunto e Grassano. Le associazioni di protezione civile saranno impegnate in attività di avvistamento con pattugliamento. Grazie all'incremento di uomini e di mezzi sarà possibile intervenire con tempestività per evitare che ettari di boschi e di pinete vadano distrutti, ha commentato l'assessore alle infrastrutture Luca Braia.